Io mi sono applicato per anni a studiare come lavorano i gruppi creativi, ne abbiamo analizzato più di 400. Equipe di chirurghi, laboratori di ricerca da Rita Levi-Montalcini, le truppe di Fellini, lavoravano con quella modalità che io chiamo osseo creativo. Tu puoi portare i corpi degli impiegati statali dentro l'ufficio, ma il problema è se ci sta la testa, non il corpo, allora la testa ci sarà soltanto se questi hanno un leader capace. Questo si fa con la formazione, non si fa col tornello.